Un trucco per la musica sul tuo iPhone che devi assolutamente conoscere. Vai nell'applicazione Orologio e premendo su Timer, una volta che setti un timer al tempo che vuoi, ad esempio 10 minuti, al di sotto puoi premere la scritta Allo Stop. Qui ti dà la possibilità di scegliere tra diversi suoni che puoi riprodurre alla fine del timer, ma se scendi in basso c'è la scritta Interrompi Riproduzione. In questo modo, quando scadrà il timer, tutto quello che c'è in riproduzione sul tuo iPhone verrà stoppato. E quindi, se hai della musica in riproduzione, verrà stoppata dopo 10 minuti. Oppure se stai guardando un video su YouTube, verrà stoppato dopo 10 minuti. Molto utile, ad esempio, se ascolti musica prima di dormire.